Shopping estremo Shopping estremo Shopping estremo Shopping estremo Shopping estremo Shopping estremo Ci sono tutti quanti? Ci sono tutti i miei trattori Shopping Estremo, Shopping Estremo Oggi è una destinazione Shopping Estremo, Shopping Estremo Ma per me sei che è molto storico Sì, te lo so, non sono le donne Shopping Estremo sulla pietra parcellana Shopping Estremo alle cascate degli Agara Shopping Estremo sotto il ponte Barberino Shopping Estremo al barezzo di Perino Shopping Estremo, Shopping Estremo Shopping Estremo Shopping Estremo Shopping Estremo, Shopping Estremo Shopping Estremo